Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi vi farò vedere un glitch su come salvare l'headset da pilota ovvero l'auricolare insomma Allora per fare questo glitch dovete venire all'eliporto non all'eliporto scusate all'eliporto e trovare questo elicottero visto che comunque l'headset compare solamente mi sembra con questo elicottero dovete farlo con questo elicottero il Frogger ragazzi una volta che siete saliti sul Frogger andate in stile paracadute andate su zaini e selezionate una volta la freccia destra una volta selezionata la freccia destra andate vabbè fate cerchio cerchio andate start online in attività create da Rockstar modalità competizione e prendete la prima la prima bestia contro maniaco va benissimo una volta presa l'attività entrate attendiamo che entrano nell'attività e una volta che siete nell'attività ragazzi come ne avete la possibilità vi lascerà uscire uscirete dall'attività automaticamente quando sarete fuori dall'attività avrete il vostro auricolare il vostro headset come lo volete chiamare da pilota come state vedendo a questo punto ragazzi l'unico passo l'unico e l'ultimo passo che vi resterà da fare è andare in un qualsiasi negozio di abbigliamento o ammunition e salvare l'headset con questo ragazzi potete farci magari qualche completo particolare non so poi magari porterò anch'io qualcosa un completo un outfit un po' particolare vediamo di trovare qualcosa di fare qualcosa di carino con questo diciamo con questo headset detto questo ragazzi io adesso vado a salvare questo quest'auricolare in maniera che mi rimanga e in maniera che ci potrò fare qualche completo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti